Lui è Rambo, ha 17 anni, è un meticcio di taglia piccola, è stato preso da una signora quando era ancora un cucciolo ed è stato cresciuto in un ambiente familiare. Purtroppo la signora è andata in ospedale ed è stato ceduto al rifugio. Quando è arrivato Rambo era spaesato, non mangiava. Con l'affetto dei volontari Rambo ha riacquistato fiducia nell'uomo e attualmente mangia come un leone. Rambo appunto perché è un vecchietto cerca un'adozione del cuore. Chiamateci per adottare Rambo che è qua, che aspetta la sua persona del cuore. E vabbè, non si può dire che 17 anni non siano tanti Rambo, lo sono e tu sei proprio un po' un nonnino. Però questo non vuol dire proprio niente perché hai ancora tanto amore da regalare a una famiglia che finalmente ti toglierà dal canile. Guardate che adottare un nonnetto ha tantissimi vantaggi perché stiamo parlando di un cane di cui conosciamo già il carattere e che sicuramente è molto saggio, molto tranquillo, anche simpatico guardando suo bel musetto. E quindi io penso che sia davvero una cosa da fare. E quindi voglio darvi il numero del rifugio di Marano, il 324 8631645